per ritrovati a tutti ragazzi eccoci con il quarto video sulle sponsorizzazioni terzo se non contiamo anche il video di presentazione oggi senza facecam perché sono incazzato perché molti di quelli che hanno richiesto la sponsorizzazione non hanno seguito i parametri infatti se voi vedete il video delle sponsorizzazioni a oltre 100 visualizzazioni è 20 30 mi piace quindi ciò significa che tutti quelli che l'hanno guardato non hanno messo mi piace anche se alcuni si sono iscritti non sono rimasti attivi quindi oltre a questi 5 canali che sponsorizzerò oggi chi non è stato incluso in questi 5 non verrà più sponsorizzato per assenza di attività io ve l'avevo detto e adesso lo sto facendo se non state attivi sul canale non vi sponsorizzo quindi direi di partire subito con queste 5 sponsorizzazioni e poi sotto questo video le nuove sponsorizzazioni per il prossimo video quindi scrivete qui sotto se volete essere sponsorizzati e rimanete attivi perché se non rimanete attivi nel corso di quei 10 video che separano una sponsorizzazione dall'altra io vi cancello partiamo subito come si presenta il canale? abbiamo un banner di default quindi tutte queste wave, tutte queste onde blu ti consiglio di mettere un banner magari che sia un cielo più scuro tipo dark la scritta Archangel è sotto in basso qui magari tutte le varie icone dei social dove sei iscritto l'immagine del profilo va anche bene, quest'angelo quasi guerriero abbiamo 85 iscritti e che video presenta? presenta molti video su Paladins ti ricordo è un free to play e che è stato accostato tantissimo a Overwatch poi abbiamo anche dei video su Valiant Art qua Paladins, infatti Paladins è un nuovo Overwatch comunque diversi video e vediamo che è molto attivo perché abbiamo due mesi fa, un mese fa, un mese fa, tre settimane, tre settimane, tre settimane vedete due settimane quindi ho un video 15 ore fa caricato Good Like with Lex Paladins vi consiglio di iscrivervi perché come vedete è molto attivo possibilmente farete anche degli fan, degli gameplay anche diversi però consigliatissimo iscrivetevi al canale di Archangel11 il secondo canale che andiamo a sponsorizzare è quello di FrenchTV che saluto tantissimo perché lui è uno degli utenti che rimane sempre abbastanza attivo purtroppo non c'è il banner ti consiglio di mettere il banner per renderle più personalizzato il tuo canale abbiamo Agai, se non è Agai, non mi ricordo come si chiama Agai Gal forse se non sbaglio dovrebbe essere il protagonista di Far Cry 4 se non dico una minchiata magari scrivetelo qua sotto se ho detto una fesseria 12 iscritti abbiamo qua Fozzamilla per la recente acquisizione da parte del gruppo dei cinesi del Milan abbiamo diverse parodie quindi molte parodie anche dei gameplay qui abbiamo Resident Evil 7 Resident Evil 7 non so perché parte 4, parte 7 è saltato tre parti nonno minaccia e nipoder quindi dei must del web Pokémon Go litigi in autobus diversi video quindi molto vario come canale ed anche molto attivo vedete tre giorni, quattro giorni fa una settimana, due settimane, tre settimane fa ok, quindi vi invito ad iscrivervi al canale di Frenchy TV il terzo canale che andiamo a sponsorizzare già vedete banner personalizzato fatto molto molto bene devo dire complimenti per questo banner ad AlecGamer87 ha 85 iscritti l'avatar Longwolf No Club se non sbaglio, se non vedo bene perché è piccolissimo questa nuova interfaccia di YouTube è un po' un casino 85 iscritti dicevo banner veramente complimenti vedete anche lui il logo di Google Plus quindi abbiamo un collegamento ad un social esterno e cosa presenta? abbiamo un gameplay di Battlefield 1 che ha pubblicato tre settimane fa ed è quello messo in vista diciamo e poi abbiamo Sirius MHD Fusion un altro gameplay un giorno fa una settimana fa il quarto gameplay di Mortal Kombat il terzo gameplay il secondo quindi una serie sui gameplay di Mortal Kombat vedete una settimana una settimana, due settimane, due settimane Fight Between Drunks lotta tra ubriachi che si pestano e si picchiano tutti i finali di Battlefield 1 gameplay quindi una serie tutta una serie su Battlefield 1 vedete 15 episodi credo sia il succo della storia comunque molte serie, molti gameplay un canale consigliatissimo AlecGamer87 iscrivetevi quarto canale che andiamo a sponsorizzare è quello di un mio carissimo carissimo amico Heim io lo chiamo Heim ma dovrebbe essere Ham però non glielo dite che l'ho pronunciato Ham ma dovrebbe essere Ham se non sbaglio comunque Heim per me rimarrà sempre Heim 36 iscritti banner non credo che sia di default credo sia un'immagine che lui ha preso e l'ha messa non te lo so dire, magari me lo scrivete anche perché c'è scritto Welcome to New Vegas ma non lo so se è Fallout New Vegas non si capisce no no Too Fabulous non si capisce onestamente un avatar personalizzato con un personaggio di un manga che io non conosco non picchiatemi tre video nove mesi fa otto mesi fa ma di recente è tornato ad essere attivo tre settimane fa con un gameplay su Osu ha cercato di convincermi a giocare a questo titolo ma purtroppo non lo farò mai però presumo tornerà attivo a breve iscrivetevi a questo canale è consigliatissimo e ultimo canale che andiamo a sponsorizzare è quello di Rocky Loki che mi segue da tantissimo tempo purtroppo anche lui senza banner ti consiglio di mettere un banner personalizzato un'immagine che credo sia Clash Royale 75 iscritti quindi iscrizione pubblica numero di iscritti pubblici poi abbiamo tanti vlog sembra che ci siano molti vlog tre le ufficiali del canale abbiamo Cist Opening Emparo Disclash Royale 6 The Walking Dead Good Fats quindi ci sono anche diversi gameplay scherzo epico al mio amico la mia 2k life compilation diversi diciamo vlog parodie e The Walking Dead saga iscrivetevi a questo canale consigliatissimo e anche per questo video bella gente è tutto come al solito vi invito a scrivere qui sotto se volete essere sponsorizzati nel prossimo video delle sponsorizzazioni rimanete attivi perché come vedete oltre a protestare con la facecam che tornerà dal prossimo episodio promesso se non rimanete attivi ve la scordate la sponsorizzazione quindi vi ricordo come si rimane attivi oltre all'iscrizione al canale il mi piace a questo video e la condivisione se volete questa se volete però poi dovete seguire tutti i video che usciranno nel corso della settimana a venire quindi magari mettete un mi piace mi iscrivete che avete messo un mi piace o magari commentate il video così so che l'avete visto e non è solamente un like così di facciata comunque vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti